Siamo con Luca Di Felice, ciao Luca, benvenuto a PowerRolliTV, innanzitutto come stai? Ciao a tutti, no, sto bene, mi sono appena ripetuto un'infortunia alla schiena, ho avuto un fastidio per una settimana che non mi sono allenato, adesso mi sono curato da un osteopota, dal nostro fisioterapista e ho ripetuto da allenarmi settimana. Sabato con Bergamo ti abbiamo visto in panchina, quanto ti ha pesato non poter contribuire alla causa? Eh sì, è stato difficile esser lì in potente senza poter partecipare, però non ero in grado di giocare insomma. Adesso anche parlando col coach Maranisi stai bene, sei tornato completamente a disposizione per questa partita che appunto parlando col coach abbiamo definito delicata. Sì, è molto delicata perché siamo lì con i punti con la squadra degli avversari, è una buona squadra dove ci sono anche degli ex compagni di squadra che ci conosciamo tutti e sarà proprio una partita interessante. Parliamo un po' appunto di questi ex, intanto chi sono e come sono tecnicamente, che problemi possono creare alla Power Volley? Beh io conosco molto bene i due centrali che sono Vaira e Dauria, che ho giocato assieme con tutte e due a Monza e sono due ottimi centrali di categoria. Insomma loro potrebbero creare problemi? Sì, sono molto forti sia in attacco che a muro. Tornando invece alla Reviva, come sta la squadra? Nel senso tre sconfitte consecutive, il primo vero momento di difficoltà della stagione? Sì, è stato il primo vero momento di difficoltà perché comunque dopo tre sconfitte iniziano a palesarsi i dubbi insomma, per cui tutti stiamo facendo degli interrogativi, abbiamo parlato molto in settimana e siamo tutti comunque concentrati sull'obiettivo. Quali possono essere i vostri punti di forza per mettere in difficoltà Aste? Sicuramente l'organizzazione muro difesa, col muro e con la battuta, dobbiamo sicuramente puntare su quello. Giocate in casa, l'ultima partita dell'anno solare, un invito ai tifosi ad essere presenti e anche una salute, un bocca al lupo per loro. Vi invitiamo tutti ad essere presenti al Pavesi per farci anche gli auguri di Natale e sperando di vincere.